Papa Francesco ha ricevuto mercoledì pomeriggio in udienza privata presso lo studiolo dell'Aula Paolo VI per circa mezz'ora la signora Estela De Carlotto, presidente dell'Associazione Argentina delle Nonne di Plazza De Maio, insieme al nipote ritrovato, Ignacio Guido Montoya Carlotto. Guido fu strappato appena nato nel 1978 alla figlia di Estela Laura, detenuta dalle milizie del dittatore Videla, che la uccisero subito dopo il parto, affidandolo illegalmente ad una famiglia senza figli. Successivamente, nella vicina Auletta, il Papa ha incontrato anche gli altri componenti della famiglia Carlotto, 18 persone, intrattenendosi cordialmente con loro. Sono stati offerti al Papa alcuni doni, tra cui un poncio e un cd di musica composta di Ignacio Guido, che è musicista, e un foulard delle nonne di Plazza De Maio.